ieri con il notaio abbiamo visto una volta finito yearbook stramorgan e onestamente le mie aspettative perché dico questa cosa perché avere delle aspettative basse non vuol dire partire sconfitti scoraggiati secondo me non è così secondo me è una conseguenza del realismo cioè mi ci hai portato tu ad avere delle basse aspettative non le avevo a priori ma ce l'avevo a posteriori proprio in seguito a gli artisti che erano sta che avevano rifiutato la propria partecipazione il tipo di artisti che invece sarebbero stati narrati nelle anticipazioni del programma e avevo già compreso le varie dichiarazioni di morgan quando era in aria di gruppo il famoso non ministero ma dipartimento della musica e onestamente tutte queste cose non mi avevano fatto pensare che sarebbe stata una cosa buona e infatti non è stata una cosa buona quella che ho visto io è stata una secondo me poi ripeto l'ho visto a un certo punto mi sono anche abbastanza infastidito perché non riesco a guardare così come non riesco a vedere qualcuno che si auto imbarazza perché mi fa strano no cioè quando dici oddio mi sto a imbarazzare per lui in realtà ho vissuto qualcosa di simile ma in questo caso per un motivo principale ha il contesto proprio la scenografia secondo poi secondo poi il fatto che lui sembrasse proprio improvvisato perché non è il messiere suo quindi per anche fare un racconto in quella maniera come lo intendeva fare lui con una teatralità diciamo alla tra virgolette buffa o alla sgarbi volendo che magari è il suo riferimento più vicino e serve essere avere quel tipo di know-how serve anche cioè buffa non è bravo soltanto perché conosce buffa è straordinariamente bravo perché sa raccontare che è la differenza tra una barzelletta che può avere l'efficacia di farti ridere non farti ridere in base a come viene raccontata quindi se tu me la racconti bene mi ammazzo dalle risate anche con una roba che probabilmente è stupida tipo come un uomo entra in un bar splash così come può essere che ovviamente essendo debole se raccontata neutra non mi farà mai ridere oppure se raccontata nel modo peggiore non mi farà mai ridere e quello che ho visto ieri onestamente ho visto una persona che non essendo un narratore televisivo faceva uno sforzo incredibile per rendersi un narratore televisivo finendo per non riuscire ad essere un narratore televisivo questo è quello che ho visto io quindi anche se you try hard alla fine non ci riesci e infatti secondo me non ci è riuscito il racconto peraltro era su modugno e allora lì sono andato a farmi due tre considerazioni perché quando dico che non avevo buone premesse non c'erano delle buone premesse non avevo delle buone aspettative tutto gira proprio intorno a questo raccontare come farà stasera bindi o come ha fatto ieri sera modugno o battiato o tenco l'ho sempre detto che non è quello che serve al risorgimento utilizziamo un tema che a lui piace della musica italiana perché la musica italiana ha ben altri problemi che sono dei problemi ben fermi nel prefissi nel presente e che non hanno bisogno di un tipo di approccio come quello di morgan che fondamentalmente anche da esperto sostiene l'ovvio per quello dico ti piace perdere facile oggi perché perdi perché perdi perdi perché sono temi che non interessano e sono temi chiaramente di taglio culturale quindi questo taglio culturale ovviamente interessa molto poco alle persone perché è un pubblico di cui devi tenere conto nel bene e nel male che non è pronto oppure non è più abituato forse sarebbero pronti ma non hanno più l'abitudine per lavorare ed ascoltare un certo tipo di narrazione soprattutto se così infatica quando poi la narrazione su qualcosa su cui non trovano punti di contatto e soprattutto da questo sono tagliati fuori giovani che sono i responsabili per su larga scala di quello che oggi succede a livello discografico ma lui perde perché appunto opera questo tipo di selezione di taglio narrativo perde proprio perché prende dei vecchi grandi non come non solo come esempio virtuoso ma come esempio di poetica e musicalità superiori a quelle dei farlocchi di oggi questo tipo di approccio è il problema serio del programma il problema è usare i vecchi per screditare i giovani perché dico che gli piace perdere facile perché perdere perde ma è facile perché grazie al cazzo scusatemi il tema che modugno è meglio di tananai per poetica o per musica grazie al cazzo che tenco o battiato sono meglio di qualsiasi artista calchi oggi i palchi italiani e non serve un programma televisivo cioè soprattutto non serve aumentare quel solco mettendoci dei riflettori sopra perché stiamo semplicemente mettendo dei riflettori sull'ovvio nessuno nessuno credo veramente nessuno abbia intenzione di giudicare o di considerare non so lazza superiore a battiato tantomeno lazza perché non ha neanche la pretesa di sostenere una roba del genere o mengoni o chiunque altro di dire io sono al pari di sono i fan al limite che possono dire queste cose forse forse ma perché ragionano in una maniera diversa ragionano in termini di numeri quindi ragionano sul discorso che se tante mosche siedono sulla merda le mosche abbiano ragione ma non capiscono che non è una bella cosa per le mosche stare sedute sulla merda oppure va bene ma se sei una mosca non se hai ambizioni diverse siccome l'essere umano è stato seduto in abbondanza sui battiato sui lucio d'alla sembra strano che lo stesso essere umano oggi sia disposto a sedersi sulla merda ma quello che manca all'interno di questa narrazione dove grazie al cazzo tutto quello che viene detto con incredibile enfasi sottolineandone la poetica sottolineandone la grandiosità musicale grazie al cazzo che vecchio frac è meglio di il 90 per cento del mainstream italiano perché bisogna poi connotare le questioni del mainstream italiano perché già se andiamo in un mondo diverso che è quello già più del sottosuolo del substrato dell'underground probabilmente iniziamo a trovare qualità molto più alta dove lazza dove tanana iniziano a perdere anche nei confronti di quelli e diventa tutto ovvio ma non si paragonano cose che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra non si paragona un calcio un giocatore di golf un campione di golf a un campione di calcio perché nel caso del campione di golf l'avete visto con jon ram che ha vinto gli augusta masters c'ha una panza così e non deve essere un atleta per essere un campione mentre nel calcio non poi presentate con una panza così neanche se sei maradona ok quindi non si possono paragonare delle cose che non hanno nessun tipo di attinenza l'una con l'altra e infatti lui senza paragonare ma lui è portavoce di questo perché l'ha detto in diverse occasioni ha detto ed è il motivo per cui sia madame che che mengoni non partecipano hanno scelto di non partecipare al suo programma perché sono stati offesi da morgan che ha detto che la loro musica fa schifo che non è neanche ascrivibile alla categoria musica che non te la si può considerare poetica nulla non c'è niente dentro quella musica e loro hanno detto perfetto allora te lo fai da solo il programma e così è stato perché quello lo puoi paragonare modugno lo puoi paragonare a tananai perché modugno era l'espressione del mainstream non è ricercatezza non è andare nel sottobosco parliamo di domenico modugno che ha scritto la canzone italiana forse più famosa più famosa nel mondo quindi non parliamo di un artista dell'underground parliamo di mainstream contro il mainstream di oggi il mainstream di ieri contro il mainstream di oggi e allora è proprio qui la riflessione caro morgan non serve mettere contro i due mainstream perché grazie al cazzo che il mainstream di una volta è migliore del mainstream di oggi perché iniziamoci a chiedere perché fai un programma sul perché partiamo dall'ovvio i tempi sono cambiati e sono cambiati di parecchio tra un po riprenderò il discorso di teardrop per soffermarmi su un altro elemento che ho volutamente saltato prima i tempi sono cambiati la narrazione musicale è cambiata i tempi musicali sono cambiati quindi è ovvio che non puoi più fare stairway to heaven oggi perché non la passerebbero neanche il radio semplice ovvio che non puoi fare prendiamo i classici bohemia rhapsody perché non la passerebbero neanche il radio anzi tiro di più non la volevano passare neanche ai tempi il radio bohemia rhapsody per dire proprio perché aveva una struttura non esattamente da commerciale quindi mainstream contro mainstream il mainstream del passato sicuramente vince ma questo caro morgan non risolve in nessuna maniera le condizioni della musica di oggi e del mainstream di oggi e io mi aspetterei da parte tua un'analisi e un programma che invece che scavare ulteriormente il solco che c'è tra ieri ed oggi invece cerchi di fare qualcosa per migliorare l'oggi perché tu stai semplicemente dicendo come un boomer ai tempi miei signora mia quant'era meglio tutto i giovani d'oggi rispetto ai giovani ai tempi miei questo è il taglio di quel programma ed ecco perché perdi ed ecco perché perdi facile ed ecco perché perdi con la responsabilità di affossare un tentativo che nella percezione degli ignoranti che ti danno quello spazio è portare la musica in televisione è così per chi ti commissiona il programma ma è così anche per chi lo guarda perché per molti quello che tu hai fatto ieri è bravo applausi che bello la narrazione ma non serve a niente se tu hai a cuore il fatto di salvare la musica come dicevi di averlo perché volevi essere a capo di un dipartimento della musica il taglio doveva essere diverso non l'ennesima occasione per sottolineare quanto signora mia ai tempi miei la musica fosse più bella ma per capire perché oggi siamo arrivati lì e lo sai che ti dico se oggi siamo arrivati lì se tananai è quello che è tananai se mengoni è quello che è se madame è quello che per te è madame non è colpa né di madame né di tananai né di mengoni perché loro sono semplicemente delle persone che ce la fanno in un sistema che non screma il tuo programma dovrebbe essere sul come siamo arrivati lì e sul perché loro non possano portarsi la colpa di essere mengoni o tananai ovvero degli artisti con poca ispirazione perché quella poca ispirazione oggi basta per essere definiti artisti sottolineare che non siano artisti non aiuta sottolineare che la loro non sia musica non aiuta tu devi capire perché si arriva a considerare quella musica e perché sia sufficiente fare quello per essere considerati musicisti quando invece bisognerebbe avere dei livelli di selezione un setaccio molto più fitto e non poter permettere che certa roba possa arrivare a diventare il mainstream di oggi perché e su questo ovviamente grazie al cazzo rispetto al mainstream di una volta fa schifo ora al netto del fatto che questo è un problema italiano e tu puoi fare questo tipo di elaborazione sulla musica italiana e sono d'accordo già non la puoi fare all'estero perché all'estero il mainstream è mille volte superiore non solo al mainstream italiano stesso ma anche a quello che tu pensi che sia serve un lavoro diverso ed è per quello che stai sprecando una grande occasione e quindi se perdi è un male e nessuno gioisce se perdi stai sprecando un'occasione dove tu sei portavoce di tutti quelli a cui diciamo la musica di tutti quelli per cui la musica è importante noi ci teniamo e invece questo tipo di narrazione che è inutile nel nostro paese perché stai raccontando umberto fucking bindi con tutto rispetto e un giovane se ne batte il cavolo di umberto bindi un giovane vuole un presente e tu non solo gliel'hai demolito il presente perché ti sei già posto da professorone dicendo che il presente di oggi fa schifo grazie al cazzo ma non gli hai spiegato perché fa schifo e non gli hai spiegato perché un ragazzo può arrivare ad avere voglia e pretendere un mainstream che sia migliore di quello che gli danno e che proprio per mancanza di conoscenza se lo fa andare bene ma non è che conoscere bindi gli cambierà la vita conoscere tenco gli cambierà la vita perché a quelle domande continuerà a non avere delle risposte grazie a tutti